Ah, perché c'è Sanremo? Io non lo sapevo neanche, fa un po' tè. Incredibile, iniziamo prima perché me l'ha chiesto Matteo. E ormai funziona così ragazzi, mi piego il vostro volere e quindi bestiacce. Eccoci qua, bentornati in un'incredibile serata di nuovo horror. Le mie coronarie stanno male, però vabbè ragazzi, purtroppo va fatto. Dobbiamo finire Poppy Playtime e dopo Poppy Playtime, dopo l'inizio di Poppy Playtime, ci dedichiamo, incredibile, a Silent Hill Short Message, che vuol dire Silent Hill, corto massaggio. Gioco che è uscito per PlayStation 5 completamente gratuito dopo l'ultimo State of Play che l'ha annunciato, quindi non vedo l'ora di provarlo anche perché si tratta di Silent Hill. Gioco che tra l'altro non so perché mi incuriosisce di più rispetto a Silent Hill 2 Remake, di cui francamente, da quelle poche immagini che si è visto, non mi interessa una beniamata ceppa. Ma vabbè, non importa, ma vabbè, chi se ne frega. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Bentornati, bentornati. Ignora Sanremo. Cosa? Va bene, lo farò. Non sapevo neanche se ci fosse Sanremo. Vi giuro, vi giuro, questo è quanto me ne frega a me. Non avevo la minima idea se ci fosse Sanremo stasera. L'avete scritto adesso in chat? Lo so ora. Lo so adesso. Fanculo Sanremo. Va bene, va bene e sia. Intanto che nascondo il mio riccio ortodosso che ci c'è fuori ogni tanto dalle mie cuffie, vi ricordo appunto che c'è sempre la serata dedicata alle news, c'è sempre il momento in cui bisogna parlare delle notizie del mondo e che il tigidino è dietro l'angolo. Poi ci salutiamo e poi si inizia a giocare. In minor tempo possibile, ragazzi, dobbiamo concludere sto Poppy Playtime. Per favore, perché voglio capire che cazzo succede alla fine del gioco e voglio togliermelo dai coglioni. Non perché sia brutto, ma perché ogni cosa bella una certa deve finire. Tra l'altro, basta dire che non fa paura. Che Poppy Playtime non fa paura. La paura non è dettata soltanto da sti cazzo di jumpscare. È tutto un concetto. Il gioco Poppy Playtime 3 è un concetto un pochino più ampio. È un gioco ampsiolitico, ti mette pressione addosso. La paura scaturisce nel momento in cui il mostro ti dilania la faccia, te la sguanta via con un colpo. Ma nel mentre ci sono una barcata di emozioni che io sto provando che non so neanche come descrivere. Detto ciò, fa meno paura del solito. Effettivamente, ragazzi, è vero. Poppy Playtime 3. Come Poppy Playtime 2, dato che alcuni mi hanno chiesto un po' un parere personale sul gioco, secondo me va incalando. Più bello di Poppy Playtime 2, attenzione, attenzione, è più bello di Poppy Playtime 2, ma non è bello quanto l'uno, che rimane per me sovrano indiscusso dei titoli indie horror dell'ultimo momento. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma sta uscendo Zoo Chouses, il gioco horror ambientato in Australia, dove noi siamo il guardiano notturno di questo zoo e i mostri, i mostri, gli animali di questo zoo, si aprono a metà per far uscire dei mostri alquanto orrendi. Dopo vi faccio vedere il trailer, ci siamo quasi, non vedo l'ora che esca, non vedo l'ora che esca, cazzo, cazzo, sì, bellissimo, è vero, è vero, grazie mille per le sap, Guerraman, grazie mille Julie Castorville, e poi chi altro, chi altro ha visto lì? La Ruth, La Perduta, La Ruth, Laurel, Piano Cottura, è incredibile, ho i peli del cane in bocca, un classico, Froggy e Daniele Pero, e già, Adolos, grazie mille bestia, saluto Valhalla, no no ma dopo vi saluto, sto solo salutando i sub ragazzi, sto solo salutando i sub, perdonatemi, Bonnie, Bonnie, anche laggiù nei tubi, incredibile, dopo vi saluto, adesso è ovviamente il momento, che tutti stavamo aspettando, TIGIDINO, Con le notifiche di sfondo, incredibile, allucinante, non è un TIGIDINO, se non si apre con la faccia di Tom Holland, tra l'altro che cazzo gli sta accadendo a sto ragazzo, prima diceva che era uscito dall'alcolismo, e adesso è qua, che dice che sta per essere, come si chiama, arruolato per fare il ruolo di Romeo e Giulietta, cioè lui farà sia Romeo che Giulietta, siamo nel 2024, quindi ragazzi, vi invito ad avere una mentalità un po' più aperta del solito, va bene? Ovviamente sto scherzando, ovviamente non lo guarderò, ovviamente non me ne frega una ben amata minchia, poi, incredibile aggiornamento PlayStation 5, che io non ho fatto, quindi spero non mi rompa le valle, prima di iniziare Silent Hill, su, l'ho visto adesso, quindi probabilmente l'avranno rilasciato adesso, su l'audio e il microfono del DualSense, microfono e audio del DualSense, siamo arrivati, allora uno dice, nel futuro le macchine voleranno, eccoci qua, nel 2024, il futuro, cosa succede? Che il mio pad ha un microfono, questo è, cosa cazzo serve, tutta questa tecnologia in un pad? Te lo dico io, a drenare la batteria, e aumentare le bollette, ma questo è tutto un complotto ragazzi, alla quale io ormai sono, 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 ecco, Deadpool 3, ci siamo bestiace, finalmente forse farà il debutto, al Super Bowl, vedremo il trailer di questo, di questo film, che tutti quanti stanno aspettando, tutti, unanime, tutti, non esiste una persona al mondo, che non apprezzi Ryan Reynolds, non esiste nessuno, su questo pianeta, che non adori quel ragazzo, e la sua splendente voce, nessuno, nessuno, è allucinante, sta simpatico a tutti, sta simpatico a tutti, a tutti, chi scrive io non l'apprezza, lo sta semplicemente facendo, per contraddirmi, siete dei bugiardi, vergognatevi, quindi incredibile, non vediamo l'ora che esca, sto cazzo di film, intanto, sempre per parlare di attori, Enrico Avil, continua a rompere le balle, cicciando fuori ogni tanto, dicendo che, sta preparando un progettino ragazzi, un progettino, niente male, non so se lo sapete, se pite, non so se lo sapete, però Enrico Avil, è uno di noi, è un videogiocatore, ed è appassionato, di Warhammer 40.000, Warhammer 40.000, mentre che tirano lo sciacquone, è il progetto del gioco, che sta facendo, e quindi, cioè del film, che sta facendo, non mi sto spiegando bene, vabbè ragazzi, basta guardare l'immagine, è abbastanza esplicativo, guardate che fotomontaggio eccesso, immaginate quanti soldi si becca, uno della redazione di GN, pochi, altra notizia allucinante ragazzi, che questa, immagino vi possa scoinvolgere, Tom Holland di nuovo, porco due, vuole essere assoldato, per fare stavolta, questo personaggio di, quello lì, dei Fantasticazzi, non mi interessa ragazzi, però sappiate che, sta scattendo un po', il macello, per via di questo annuncio, della Microsoft, dove a quanto pare, le sue console, i suoi giochi, insomma, i suoi giochi, le sue esclusive, arriveranno su PlayStation, secondo delle voci di corridoio, a quanto pare, sembra essere abbastanza confermata, sta roba, e a breve potrebbe esserci, l'annuncio, dato l'uscita, del DLC di Starfield, della patch di Starfield, correttiva, quel gioco di merda, questo potrebbe arrivare, insieme anche a un annuncio, su PlayStation 5, quindi all'uscita anche su PlayStation 5, non vediamo l'ora, di non mettere le mani, su quel gioco, io non capisco, per quale cazzo di Bethesda, tienitelo lì da parte, per favore, non ci interessa, però non è tanto quello, non è tanto Starfield, è tanto che questa cosa qua, sta facendo giustamente, incazzare, chi ha comprato l'Xbox, per le sue esclusive, al di là del suo sistema, d'abbonamento, e si sta, eh, chiedendo, da bravo acquirente, Xbox qual è, come me ad esempio, lo dico tranquillamente, per cosa minchia, stia succedendo, per quale motivo, dopo tutti i miliardi, che si prendono questi, anziché pensare, nello sviluppo, di giochi, di una certa, diciamo, rilevanza, stanno pensando, semplicemente, alla quantità, come al solito, e di vendere, più possibile, le loro esclusive, così, come forse, come fosse merci di scambio, senza dargli quasi valore, sinceramente, a me sta cosa, fa un po' schifo, però, eh, c'è il Game Pass, che ci dà i giochi gratis, quindi non posso disprezzare, l'Xbox, che poi gratis, che poi gratis, eh, questa, questo era, il TGD, chiudiamo ovviamente qui, notizie da tutto il mondo, come non hai capito un cazzo, cioè, è un dieci minuti che parlo, non hai capito un cazzo? Devo rifare da capo tutto il TGD, no? Ma siamo seri? Senti, eh, sigla. Tu dimmi se è possibile fare una roba del genere. Eccoci, allora, eh, vi saluto e poi partiamo. Successivamente sappiate che alla fine della serata, incredibile, ma vero, sono italiano, quindi gesticolo, alla fine della serata, qua tutti insieme, che cazzo ho fatto? Ho toccato qualcuno, c'era qualcuno a fianco a me, eh, ci saranno le reaction, quindi le reaction, eh, e sarà qualcosa di allucinante, perché per la prima volta, per la prima volta, reacteremo a quel cazzo di personaggio, alla quale voglio reactare dall'inizio dei tempi. Io pensate, volevo iniziare le reaction sul canale nel 2024 con lui, poi non l'ho mai fatto, adesso mi sono rotto le balle. La Venezia Araba costruita nell'eserto, di Niccolò Balini, non è un libro, ma è il suo nuovo film, il suo nuovo video. Io lo seguo assiduamente il ragazzo, perché apprezzo tutto ciò che fa, è un ottimo content creator, questa non è ovviamente una sponsor, perché rispetto a noi, chi cazzo ci conosce? Cioè, voglio dire, rispetto a lui, chi cazzo conosce noi? Vabbè, ci siamo capiti. Il fatto sta che comunque l'ho conosciuto, ed è più alto di quello che sembra, in foto, in video. Detto ciò, il nostro sponsor, Instant Gaming, vi ricordo che se volete, c'è il canale, come si chiama il comando, Instant Gaming, potete avere il 90% di sconto sui giochi, indie e AAA. Poi, addirittura, stanno facendo anche una meraviglia, utilizzate, mi raccomando, il nostro link, utilizzando il nostro link, ci date anche una mano, oltre che avere i giochi scontati fino al 90, così è, se vi interessa. Poi, tra l'altro, stanno anche facendo un giveaway, ne fanno uno al mese, dove regalano un gioco a vostra seta, cioè voi scegliete il gioco e potete avere fortuna di vincerlo, una sorta di lotteria, ma democratica. Cazzate, sto dicendo cazzate, quindi bestiacce, fattilo, fattilo che è sempre lì, male non fa, Instant Gaming, mi raccomando. Nino, quale sarebbe secondo te l'horror più pauroso che tu abbia mai giocato? Eh, io e il mio ragazzo purtroppo non riusciamo a seguirti spesso in live, ma ti dico che ci becchiamo tutte le Horror Night, passa subito, grazie mille, grazie mille, grazie mille, e non saprei dirti, non saprei dirti perché non mi ricordo un cazzo. Quindi l'horror più spaventoso che ho giocato è l'ultimo horror che ho giocato. Questa è la mia filosofia, come la birra più buona è l'ultima che ho bevuta, bevuto? Oggi non so parlare, vabbè. Vi saluto, vi saluto, Matteo, ovviamente, Chioriem, Pioggia, Dadaele, Mirko, Saturno, FanCoopTV96, tra l'altro ragazzi, ma per favore, per favore, per favore, continuate cazzo a fributarci su TikTok, YouTube, dove cazzo, fributer, fributateci, fateci pubblicità, male non fa, noi vi amiamo, vi adoriamo, ovviamente decontestualizzate le mie clip, fatemi passare per le persone che non sono, perché io mi faccio grasse e grosse risate. Horizon, poi abbiamo Horizon Sezzacca, Lord Akami, Vincent Vega, attenzione, è qua con noi, Killer Gamer, Trilli, G-G-Jack, Silesia, Curse Random, Axel, Axel, Alex, vabbè, sia lì, Strega, poi Lost in Internet, I Redated Fox, ce l'ho fatta, Clà, 9, salvo, 98, Ardron, Ardren, 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 ci sono riuscito, Stefano Baldi, 17789, Polifemo 44, ovviamente il nostro The Python, ovviamente The Dark Hunter, ovviamente Vain, Legend Killer, è l'ultimo, ma non l'ultimo, minchia ragazzi, stasera c'è proprio la parlantina, fermatemi, ecco, ho respirato dopo 19 minuti, ce l'abbiamo fatta, l'ultimo, ma non l'ultimo, che è l'ultimo degli ultimi ragazzi, l'ultimo degli ultimi soffrirà insieme a me stasera, ovviamente in senso metaforico, Twitch contestualizza, non è che io porto sofferenza agli altri, no, assolutamente, Blood Flower, ciao Dino, sono poche settimane che ti seguo, mi sono sabbata anche su YouTube, sei l'ultima degli ultimi, grazie mille bestiaccia, benvenuta, benvoluta, è un piacere, un onore ragazzuoli, eccoci qua, alla casa del signore, che non è la mia, perché gentilmente occupo, un pelo del cane, esprimo un desiderio, ah no, era un mio pelo, vabbè, buono, no, quindi il desiderio non vale, direi di partire ragazzi, Poppy Playtime, parte finale, mi raccomando, spegnete i vostri dispositivi cellulari, isolatevi dal mondo esterno, preparatevi la boccia di popcorn, e niente, boh, non lo so, lasciatevi cullare da questo momento peculiare, era un mio capello, l'ultimo degli ultimi, non vedo un cazzo senza occhiali, mamma mia, ma che brutto, invece, stai partendo il gioco nel mentre, non vedo niente, non vedo, allora, sono andato a farmi l'esame della vista, perché ho bisogno di occhiali nuovi, perché se non mi metto gli occhiali, non vedo, o sono peggiorato, ho perso qualche diottria, forse più di uno, ora, però, va a peggiorare sempre di più, per che cosa? Per colpa del 5G, no, la mia vista va a peggiorare sempre di più, per via del, dello schermo, quindi mi raccomando, fate attenzione con gli schermi ragazzi, non si scherza, gli schermi fanno male, soprattutto se te li lanciano in faccia, e le schegge di vetro ti si infilano negli occhi, cristalli liquidi non vanno bevuti, ma vanno prima aromatizzati, bolliteli un attimino, a quel punto, insaporiti con qualche spezia che volete, tra la salvia, rosmarino, eccetera, possono essere ingeriti, o meglio ancora però, attenzione, introduceteli nel vostro corpo, attraverso il naso, sniffateli, piuttosto che, eccoci, sta partendo? Non va. Sì, sì, questa qua ovviamente sono tutte le mie ricette, sulla tecnologia, non va un cazzo, non va, lo devo minacciare, ti devo minacciare? Non mi risponde, non mi risponde, no ma adesso parte ragazzi, non ho voglia di minacciarlo, non lo voglio minacciare sempre tutte le volte, guarda che ti spengo eh, ma porco due, ma ti muovi o no? Figa, vedete che non parte più all'ultima live? Ci siamo, lo devi minacciare di nuovo, il gioco va avanti a Vicenza, ti devo mettere in riga, ti devo mettere in riga, fai alt tab, l'ho già fatto alt tab, micchia, iniziate a dirmi cosa devo fare, che meraviglia, quando partono queste serate, dove vi partono i cinque minuti, io parto per la tangente, l'importante è partire, non va ragazzi, diamogli un attimo di tempo, non si carica, attenzione, no, attenzione, no, siamo con te, e con il tuo spirito, parole del Signore, rendiamo grazie a lui, o a lei, twist, è colpa del tuo pc, probabile, allora aspetta un attimo, vediamo un po' che cazzo, c'ha sto gioco di merda, ogni volta, Cristo Santo, ma perché fa così? e mentre che risolvo, versaci della birra, no, non posso, ho soltanto con me, la mia water drop, in realtà l'ho riempito di birra, non so come tu faccia saperlo, alt fa, birra, quando finisce la live, quando vuoi tu, c'è un tasto, che permette di spegnere qualsiasi cosa, figa, però ragazzi, c'è, mi sento anche un po' preso per il culo da sto problema, oggi non ho voglia, proprio lo dico, c'è, mi metto a giocare a Silent Hill, non sta andando il gioco ragazzi, ma all'ultimo così? vabbè, allora chiudiamolo e riapriamolo, vediamo un po', ferma, in esecuzione, deciditi, o in esecuzione, o è ferma, via, poppy playtime, di nuovo, chiedo umilmente perdono, chiedo umilmente perdono, allora, gli sviluppatori hanno detto che stanno facciando qua e là qualche problema, a me basterebbe che partisse il gioco, tutto qui, è fermo in esecuzione, sì, ma poi vedi che parte, perché alla fine, c'è, mi mette sta cacata, me la mette, c'è, aspetta, ok, ecco, vedi, oh, stavolta è andato, per strana, boh, non si sa, è partito, oh, continua, sì, allora ragazzi, l'ansia, l'ansia fa parte del mestiere ormai, quindi, ci prepariamo, ci prepariamo partendo da qui, ok, state tranquilli, non voglio farmi venire male, ma sono, essendo io un pro gamer, cerco di abilitare la mia coordinazione mano occhio con questi movimenti scattanti, in questo preciso istante io sto centrando con la punta del monitor ogni singolo, ogni singolo pixel necessario per la riuscita di questo livello, e sto, e ce la sto facendo, guardate, vedete, infatti sono molto più funzionale, guardate qua, vedete, questi movimenti talmente veloci che voi non riuscite quasi a comprenderli, è del tutto normale, è del tutto normale, solo i migliori possono permetterci, possono permettersi questo, eh, tra l'altro voglio anche utilizzare la pistola, che l'altra volta non l'abbiamo fatto, l'abbiamo iniziato, l'abbiamo iniziato ad usarla verso la fine, e stavamo, ecco insomma io, non va? ah già, prima devo fare sta puttanata, così, 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 e beh, tu ti chiudi in automatico, ok, ci siamo, boom baby, non ho paura di un cazzo stasera, vai così, vai così, sì, tocca tutto, ci sono ragazzi, ci sono, stavolta la vinco, ma la vinco proprio senza, guarda, mostro, sparito, non esiste, pagliaccio, mostro, sparito, non esiste, di qua, non esistono, non mi fanno paura, ci siamo, ci siamo, ci siamo, com'è l'audio? Forse è meglio che ricarichi un attimo con la mia pistola, non stanno arrivando, non stanno arrivando perché mi temono, mi temono, consacrati, al nostro gatto, il porco, perché si è sempre detto porco cane, e mai porco gatto? Inserire una nuova batteria, allucinante, partiamo da questa, eh? ok, 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 ora però, attenzione, perché lo stronzo potrebbe arrivare anche da destra, anche se vuoi, scusi eh, scusi eh, eh, oh, no! A posto, bene, buono, dai, potrebbe arrivare anche da destra lo stronzo, quindi mi raccomando, eh, 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 no Dino, non viene da destra, sappiamo tutti com'è finita l'altra sera, è vero, è vero, lui esiste, lui vive, veloce, che cazzo fai? Che stai facendo? no, l'altra mano, l'ultra mano, l'istiiiiiii! Porco due all'ultimo ragazzi, porca puttana che ansia, che è? Altra batteria? E ci penso io, che vuoi che sia? Con l'altra batteria, spara, spara, di qua niente, di qua un cazzo, di là niente, sto vincendo, sto vincendo e sono a metà, non ho mai smesso di vincere, questo è il fatto, c'è chi vince, c'è chi perde, io, chi ho? Dove cazzo è? Aiuto? Allora? Mi temo, no? Perché sono carico, è tutto atteggiamento ragazzi, è tutto atteggiamento, è tutto atteggiamento, ci siamo, ci siamo, è la fine, mano due, mano due, mano uno, veloce, veloce, no, Cristo Dio Santo, lo sapevo, perché? Perché? Te lo dico io perché, perché manca l'atteggiamento, è facile, è easy, è easy, è easy, micchia, poi mi devo rifare sempre il tutorial, vedo che mi devo rifare io, il naso, lo voglio aquilino, sporgente, ne voglio tanto, perché sì, dà importanza, il naso è importante, alla Dante, alla Dante Arriglieri, ne voglio di più, dove cazzo lo metto questa, non mi ricordo, qua, no, non lo so, ma vaffanculo, ok? Eh? Ah, a posto, allora, tasto 3 era la pistola, sì, allora, ma non ho neanche più paura ormai, eh? Ora col cavolo che uso i punti, col cavolo che uso i punti, perché non vi fidate di me? Ragazzi, il motivo per cui io sto perdendo, è perché voi non concentrate le vostre energie su di me, dovete idealizzare la vittoria, che cazzo è sto suono? Ma è tutto normale? Ma è normale sto suono? Ma che è sto suono? Ah, eh, vabbè, ok, ok, buono, ora sto rompendo il gioco, letteralmente, oh no, insert batteria, insert bacteria, insert bacteria now, prend, ah, micchia che gioco di merda, ok, ok, oh cristo, è vero, lui è vero, guarda che so fare, è dietro di me? Tutto attorno a me, oh, ok, lei, 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 si calmi, si calmi, si calmi, vediamo se, ho sparato, ok, credo che lui sia l'unico gatto vero, comunque, nel senso che lui non può essere finto, quando viene da sopra, ho come sta sensazione qua, giusto? giusto? Intanto, batteria si sta consumando, però vabbè, non mi interessa, ecco, non so se faccio bene ad aprire quello a sinistra, prima di quello di destra, o viceversa, 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 batteria, uh, uh, cosa ho cacciato via, a caso, tra l'altro, uh, erca puttana, l'ho rotto di nuovo, silenzio, silenzio, ok, lui è quello vero, lui è quello vero, lui è quello vero, veloce, 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 ok, 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 mani in alto, con calma, con calma, con calma, con calma, la virtù dei forti, la calma, ok, ok, che sto facendo, cosa ho colpito, chi di voi è quello vero, non lo so, io sto, sto uccidendo qui, qua la batteria manca, quella della luce, bene, 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 adesso l'ansia, no, ecco, questo è il momento in cui, mi cago sotto, perché sto stronzo è troppo veloce, no, non va bene, è infattibile, è infattibile, non si può fare, questo punto non si può fare, non si può fare, perché il mio personaggio non salta, io mi dovrei girare allo stesso tempo, come cazzo dovrei fare? Non muore, io ci credo, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, ho visto che molti di voi hanno scommesso sul non muore, io ci credo, ci credo su sta cosa, guarda, io sono abbattuto, ragazzi, che poi tra le altre cose, tra le altre cose, se devo essere sincero, credo che la cosa migliore da fare, se utilizzare, sì, la pistola, perché effettivamente la pistola mi ha parato il culo per un bel po', anticipalo, eh ragazzi, però non si sa se vien da lì, capito? Cioè, io non ho abbastanza tempo, intanto non so se sparargli serve a qualcosa, gattone, le crocchette, ok, l'ho fatto sparire, l'ho fatto sparire anche lui, tre proiettili, terza volta dai, ma qua stiamo tutta la sera ragazzi, probabilmente alla settima, alla settima forse, luce, le luce, batteria, ok, 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 oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, è lento o inesorabile lo stronzo, come quasi, è tipo un super predatore, lui non ti caccia con la sua velocità, ti caccia con l'ansia, cioè sei tu che poi alla fine cadrai nella sua trappola, non è lui che vien da te, sei tu che andrai da lui, è vivo, è vero, è ancora vero, è ancora lui, l'inevitabile, l'originale Disney, da lato nessuno, ma se vien da lato io come cazzo dovrei fare tra le altre cose, mi sta venendo in mente, adesso viene dal soffitto, tre, due, mamma mia, mamma mia, ma come faccio, ma come si riesca, ma quante ne so, e anche questo è finto, vabbè, ma si possono comunque distinguere quelli veri da quelli finti, c'è una sorta di fumo prima della silhouette del gattone, ah già la batteria, che sto facendo, prendi il coglionito, oh oh, ah ah, ah ah, ah ah, arrivederci, ok, ok, di qua, nada, dietro di me, nada, è finto, che sono sti suoni? ok, sta salendo l'ansia, perché ci avviciniamo verso la terza fase, ah ah ah, teniamo già la seconda mano, con calma eh, con calma eh, che tra l'altro toccarlo non era sufficiente, ok, ok, questo è quello vero per forza, questo è quello vero per forza, veloce, veloce, oh fanculo, terza mano, terza mano, la terza mano, al cinema, dai 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 che ce la faccio, dai che ce la faccio ragazzi, parlo troppo semplicemente perché, ancora, che, eh, tu, vieni qua, vieni qua, quarto livello, ti prego non venire da destra, tutto tranne che la destra, ti prego, non venire, eh sinistra, questa è la sinistra, allora tutto tranne che la sinistra, infatti mi sembrava strano lì per lì, ok, e che cazzo ho appena detto io, è vero, è vero, seconda, non cambia la mano, sono morto di nuovo, sono morto di nuovo, ma ragazzi, ma porco due, ma è troppo veloce però, perdonatemi, ma non si può fare, ma che cazzo, ma non lo vedremo mai il finale di sto gioco di merda, non essere egoista, alzati, che cazzo vuol dire, sei recidivo, e fallo tu, fallo tu, non perdere tempo, non cambia mano, perché se io uso la rotella, guardate, se uso la rotellina del mouse, mette le mani, che cazzo vuole lui, io non sto scel- adesso voglio mettere la mano rossa, la mano bianca, la mano, non c'è la mia, vabbè, avete capito, ma basta, basta, mi confondete solo le idee, tutto da capo, bene, vai così, vai così, tanto non abbiamo un cazzo da fare stasera, tanto non abbiamo un cazzo da fare, vero, 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 a posto, tre, di non usare la rotellina del mouse, i numeri della tastiera, appunto, sto usando i numeri della tastiera, ragazzi, ma ci metto una vita per cambiare, cioè, guarda quanto tempo ci mette per cambiare mano, cioè, ci metto troppo, ci metto troppo, se quello sta arrivando, il tempo che cambio mano, sono fottuto, a proposito di cambiare mano, e che vuoi che sia, sembra tennis, non so perché, lo squash, ho sparato al culo di un gatto, e mi è piaciuto, oh, olè, canestro, ciuffo, ok, dal soffitto, dal soffitto, quello è vero, quello è vero forse, attenzione, no, vero è qua sopra, dai, 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 arrivederci, ok, quello sopra, non credo possa essere finto, ragazzi, quindi, in realtà, mi dà sicurezza, allora, niente, vicino che chiede lo zucchero, vedi, ha finito lo zucchero, è insistente, tra l'altro, io credo di poter, volendo scappare da qui, no, ma io sono un deficiente, mi è venuto in mente adesso, ragazzi, tipo ad esempio, Cristo santo, wow, ok, serve tu, scubidubidù, dai, 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 straparlo stasera, ragazzi, lo so, avete ragione, perdonatemi, oh Cristo, quello è vero, 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 ok, ok, oh Cristo, quello è vero, quello è vero, no, non è vero, spara, spara, di, è vero, vaffanculo, me ne vado, se vai nella parte rossa muori, l'ho scoperto adesso, l'innovazione è la chiave, non ci riesco, ragazzi, non è il miglior gioco da guardare in gravidanza, il bambino, il bambino chiamano Cristo santo, Smettila di sparare a caso E tu chi cazzo sei il mio capo? Non ti permetti Io sparo a chi e a chi e a cosa voglio Io non lo so Eeeh Di qua Se viene da sinistra è vero ogni volta Non è vero Ma che regole del cazzo sono ragazzi? Quante mila volte ho sparato di qua E lo stronzo non c'era Ma che Chi ve le dice ste cose? Cosa cazzo devo fare io qua Con sto roba in mano? Ah già giusto No sbagliato Entro oggi Eeeh Che è successa alla mano lì? Non chiediamocelo Posso dire col livello di merda Cioè ragazzi Mi mette ansia per carità Ma è proprio un livello di me È proprio gene È stato concepito proprio male Cioè Capisco mettere l'ansia Ma veramente troppe robe da controllare Con una sola volta Aspetta ma se viene da sinistra è sempre vero Il twist Tanto che serve quello A dare gas di qua Sono fottuto Qui è finto guarda Visto visto Ah vedi che anche da sinistra sono fitti Ai 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 Ci ho preso ragazzi Quello è vero Quindi vero da qua Mostrati Batteria Mi Chi ha Oh cristo santo No e basta Ho paura Ho paura a dargli le spalle Ho una paura Fotu Mamma mia La mano La mano Che? Buongiorno Salve Eccoci qua Madonna che ansia Un cretino Che poi sta così Come faccio a uscirne vivo? L'importante è che non viene da là Bussa no eh Scusate Perdonatemi Perdonatemi Che lei forse è frutto della mia fantasia Sì Serve una batteria Ci penso io Che poi tra l'altro Stavo pensando Che sinceramente Sarebbe più intelligente È vero 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 Guarda quanto cazzo di tempo ci mette a cambiare la mano Guarda quanto cazzo di tempo ci mette a cambiare la mano Cioè capisci che non posso controllarla sta puttanata? Uh madonna Pensavo fosse di là Che se è di là non so neanche come attivarlo sto gas eh ragazzi Nel vapore da quel lato destro Io non so dove Vabbè Non voglio spezzare Concentrazione 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 Allora lui poi verrà da si Pezzo di merda Pezzo di merda Pezzo di merda Lui poi verrà da qua Quindi prepariamoci con la mano blu Vero? Vero? Esatto Vero? 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 L'ultima No? Oddio Oddio Dov'è? Dov'è? Perché? Che è sto suono? Aiuto Ma non è mai stato così prima Perché è così? Tutto silenzioso Che cazzo vuoi? Che? Ah Ok da sopra Da sopra Questa è nuova Allora veloce Veloce No Non venire da lì eh Non venire da lì eh Dietro di me? No Dietro di me? Undici secondi Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Uno Che? Che cazzo devo fare? Non lo so Non Ok Oddio Ma che succede? Quello è il prototipo? Attenzione Vicentina molto questa situazione Ma cos'è sulla schiena? Eh Buo benissimo Ma lì c'è la mia mano verde Arrivederci È stato scelto dall'artiglio Vedi che Ve l'ho detto che hai seguito di tui storie Non ho più una mano ragazzi Cosa dovrei fare? Cosa dovrei fare? Hello? Eh la mano La mano? Ah Dove devo andare ragazzi? Perdonatemi Grande Dino Non se lo meritava Il mio pisello Non se lo meritava Perdonatemi Ma le batterie Sono finite tutte? Ah non posso riprendere Giusto? No Credo che io Deba passare di qua Calmi eh Va tutto bene Forse mi da una cassetta Perché qua c'è un registratore Ragazzi Trovassi la cassetta giusta Magari c'è una cassetta Da qualche parte Aspetta No Questa è una luce Ecco quello che mi mancherà di questo gioco una volta finito È il fatto che L'ambientazione L'ambientazione mi piace un botto Perché è un Five Night at Freddy Ma Eterosessuale Non c'è Non c'è una Non c'è una cazzo di cassetta Cosa dice la console? Che sono un DJ? Non Non Ragazzi Non ne ho idea dove devo andare Ritorno indietro Mirpac Grazie mille Grazie anche E' aperta la botola Boh io non so Mi metto di qua No Non mi devo mettere di qua Dove che cazzo devo andare? C'è sta confusione Ogni volta Aspetta Prova a vedere Magari Eh no La mano blu La mano verde L'ho persa No la botola non si apre ragazzi Vedete E' chiusa Forse c'è un passaggio di qua Possibile Ah no Guarda C'era addirittura Robo del gas Che manco sapevo Ci fosse Buono E niente Schiaccia il pulsante Dove eri prima Eh Devo tornare indietro ragazzi Sì Però non so Come tornarci Nel senso sono all'ascensore Da dove sono arrivato Ma non Mi fa fare nulla Cazzo dovrei fare Scusatemi Basta Il gioco finisce così Fino all'aperto Segui la seconda luce a sinistra Eh Girati Ok Sulla sinistra Quindi di qua Vabbè Vieni qua Magari di qua c'è qualcosa Effettivamente No Siete dei bugiardi Ma allora Potete dirmi una cosa Perché magari sono Io sono rincoglionito Però È effettivamente dispersivo Questo gioco Perché io È dall'inizio È dall'inizio Di Poppy Playtime 3 Che non so mai Dove cazzo devo andare E non so mai Cosa devo fare Sono io Che sono un demerito Imbecille O è effettivamente Il gioco Che non ti dice un cazzo E non ti fa capire Cosa devi fare Perché c'è Questo preciso Istante Io cosa dovrei fare Scusatemi Ma non ci arrivo Ambo Prova a riposizionare Le batterie Non lo posso fare Eh Magari prenderle sarebbe Qui c'è il terminale Magari quel cassetto Si può aprire No Non credo Mi nascondo sotto La scrivania No Divenne una segretaria Tutto tondo Dino questo muro La live È in ritardo Tendi questo muro Che dovrei fare Stacco questa Ah Grazie Quindi questa era L'unica batteria Che si può prelevare E questa dove me la metto Perdonami La metto qua Ok Adesso abbiamo dato corrente Non Farlo mai più Così forse dovremmo Poter tornare indietro Vediamo Non lo so eh Sto Ipotizzando Ok A posto Era la batteria Il problema Era la batteria Wow Non c'è audio E Sono un monco Bene Quindi adesso Non c'è più il gas No Sono tutti liberi Mi sta venendo l'ansia Non so per quale motivo Corrente elettrica assente Io ancora Ricordo che Oogie Boogie Oogie Boogie Quello stronzo lì Dal primo capitolo Per me non è morto Bene Bene No signal Ok Così Riavvia Offline Pronto Ok Tutti i parametri Sembrano a posto 10 bar E dietro di me No A destra No Il gas è stato spostato E abbiamo riequilibrato Giusto Che è sto suono Ehi là Porca puttana Bene Questa è la Parmalat Buono E adesso E ma Tra l'altro quella porta lì Non si può aprire E di qua non so neanche Se sono arrivato da qui Ah già Qua c'era la mano Cosa c'è là dietro Niente nessuno Secondo me ci sono di quegli easter egg in sto gioco Tipo che magari dietro una finestra in fondo lì Trovi lo stronzo che ti spia Qua c'è il gas A posto Nella porta a sinistra Ma da qua non sono mica Arrivato No Dove cazzo è? Dove sei? Dove cazzo sei? Sì ma tu io non mi fido di te Poppy Se vogliamo continuare allora Ah la cassetta Eh sì se possiamo avere un attimino una Dammela Ehi L'ora della gioia L'avevo letto da qualche parte L'ha scritto sul sangue Con il sangue sui muri Vado eh Gentilissima L'ora della gioia Oh Cristo Questo è lui Oh Chino Si è svegliato Li ha mangiati E beh era abbastanza ovvio E cosa vuoi che sia successo? Questa l'avevo capito anch'io Che li ha sbudellati uno dopo l'altro Questa è la mamma Che se rimagna Non mi fido Non mi fido di ciò che ho alle spalle Quasi quasi la verità Non la voglio sapere Tanto sono immagini vere eh Oh madonna Quante cazzo di mischietti Ma quante erano? Perfetto Sono impazziti uno dopo l'altro I pupazzi Ah questo è il boxy coso Figlio E il gatto? Eccolo lì Il gatto è Secondo me Qual è il più inquietante? Madonna che ansia Dopo facciamo la notazione Di chi è il più inquietante Dei poppy playtime Della saga Della saga Che è che è stansia? Eccolo vedi? Questo era l'uno Minchia questo è ancora vivo Ve lo dico io Il twistone che è ancora vivo Con lo stronzo di Ugi Eh? Mi nascondi qualcosa vero? Shhh E' tutto ok Si è un po' calda C'è la febbre Aspetta che controllo Nasconderti Quasi cose per stare in vita Mi ricordo Le loro gride Non mi interessa Voglio solo uscire da qui Bene Bene Le loro uccidute Non mi interessa Li diamo un attimo a dir Oh, 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 oh Oddio Eccoci qua, eh, portatela via Grazie mille Quella la butti nell'indifferenziata però, mi raccomando Esatto L'ha ammazzata? Ah no Minchia, che inquietudine Ma, c'è, dobbiamo ancora andare avanti Ma ci sarà un altro po' Dopo di te, orco 2, vai via Ma dobbiamo ancora scendere? Eh, si passa da qui Ah, che schifo Ciao No Oh no, no Che succede? Che? Eh no, stiamo andando giù, non stiamo andando su No, no, vai giù, vai giù Che cazzo va Che sia un cazzo È morto ormai Che è stato? C'è un altro mostro Basta No, non farmelo finire così Dovevi dirmi cos'era Co-creators Zack Belanger Come valutazione 8 Perché, secondo me Il primo Poppy Playtime Era un 9 8 e mezzo 9 E voi direte Ma no Ma sei un ubriaco Sì Il secondo L'ho trovato Un bel passo indietro Mamma era veramente inquietante Però Devo dire che Non lo so ragazzi Siamo arrivati su A dei livelli di noia Che in Poppy Playtime Non dovevano toccare Dal momento in cui Appunto Lo hanno allungato di troppo Siamo passati da 20 minuti Di gameplay del primo 20, 30, 40 minuti No, era 30 minuti 30 minuti esatti Il primo Poppy Playtime A 2, 3 ore di gameplay Sinceramente per me Completamente inutili Terzo capitolo Bello Ma c'è da considerarsi Che nel mezzo C'è Poppy Playground Che era quello online Con Buxi Che è il nuovo personaggio Carino Mi è piaciuto Peccato che è andato Come è andato Potevano di più Concentrarsi direttamente Sul terzo Io avrei fatto così Terzo capitolo Questo qua Anche questo Forse un po' troppo lungo Ripetitivo Nelle meccaniche Parte finale Completamente noiosa Cioè Veramente Il livello finale Secondo me È fatto un po' col culo Però Le ambientazioni Lo stress Il flare Ottima meccanica Della flare Mi è piaciuto Un botto Sparare Per avere la luce Se no Mi mostro i ciattoli Ti mangiano Veramente figo L'ansia della pupazza Che se ti giri Ti insegue Classicissimo Negli horror Ma fatto da dio Devo dire che ci sta Devo dire che ci sta Quindi Finale di shit No vabbè Il finale ragazzi Il finale aperto Di ogni poppy playtime Certo negli altri Bene o male Vedevi qualche mostro Qua un cazzo Ma non Addio Addio Negli altri Vedevi qualcosa Qua Almeno Si preannunciava No Qualche mostro Invece qua Niente Però ragazzi Ci sono giochi peggiori Osannati di più Vi devo ricordare Garden of Bamban Eh 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 Dai Dai A me è piaciuto Sti cazzi Per me si becco Un otto pieno Nella mia personalissima Classifica Ora Non abbiamo nulla da fare Quindi accendo la playstation E giochiamo a silent hill Così Ma cazzo Ma cazzo Ma cazzo È bello dai poppy Ma sì È bello È bello Ragazzi Ci sta Intanto sto Scendendo la play Voi votate Da 1 a 5 Votate Oh figa Votate 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 per poppy playtime Ora sono 22.19 Sì Ce la facciamo Sai cosa non ho capito Di poppy playtime La trama La trama È meglio cry of fear O Eh Non ho letto Che domanda era È meglio cry of fear O Vabbè Riscrivila Siamo in 2 Io non capisco più Le trame dei videogiochi horror Ragazzi Mi devo ricordare Quello che è accaduto nell'1 E l'ho giocato 2 anni fa Tra un capitolo e l'altro Passano 6 mesi Sviluppatore Mettiti in testa Che non esiste solo Il tuo giochino E quindi di conseguenza Uno gioca anche ad altro Fammi almeno Un recappone Fammi un recappone All'inizio del gioco Mi fai vedere cosa è successo Nei capitoli precedenti Tipo una roba del genere No? È invece un cazzo Il primo non si batte Anche perché è nuovo Ragazzi Il primo è nuovo Il poppy playtime È un'idea nuova Che prende spunto Da Fight Night at Freddy Con il concetto Degli animatroni Ma è nuova Le mani Che ti possono allungare Che devi afferrare le cose Tra l'altro Io ho rivisto La prima live Su poppy playtime E io mi ricordavo Non me lo ricordavo Ma addirittura Nell'uno La fisica era molto Molto migliorata Molto migliore Perché tu potevi Molto migliore Non si può sentire Ma vabbè Tu potevi attaccarti Con le mani A tutti gli oggetti Che trovavi Non solo a quelli Diciamo Decisi dallo sviluppatore Potevi attaccarti a tutto Era una figata devastante Quindi paradossalmente Dettaglio inutile Però superfluo Però era figo Certo che porteremo il 4 Dettaglio inutile Dettaglio inutile